Bene, quindi ora parto con i capelli e comincio con il bagnare la superficie, come sempre. Per vedere se la sto bagnando bene, io la guardo molto spesso anche in controluce. Proprio mi metto in controluce e cerco di vedere se la sto bagnando tutta in modo uniforme, se sto mettendo troppa acqua, poca acqua, eccetera. Ok, quindi una volta bagnata, prendiamo il solito colore scuro che io faccio unendo insieme una terra d'ombra, un po' di viola e un po' di blu al tremare, in questo caso c'è più blu all'interno, perché comunque i capelli di questa modella sono nero-blu. E quindi parto, parto dall'alto. Ho bagnato bene, il colore si spande abbastanza bene. In realtà, come tutte le carte, anche questa si sta rivelando una carta da scoprire. Cioè nel senso, bisogna capire, usandola, quindi sbagliando, eccetera, capire quanto bagnarla e tutto il resto. Una volta capita è una carta da capire. Infatti io non credo che esista una carta brutta, una carta bella. Cioè ci sono ovviamente sì, carte che sono orrende, bruttissime, con cui effettivamente è quasi impossibile, anche per una persona bravissima, esperta, rendere bene un lavoro. Però un carte di una qualità anche media, diciamo così, è sempre possibile ottenere dei bei risultati. Basta conoscere la carta, capire quanto va bagnata, capire come va utilizzata, eccetera. Allora adesso qui lei ha delle parti molto in luce nei capelli, quindi cercherò di lasciare queste parti. Qui no, qui solo per coprire. Cerchiamo di scurire dove va scurito. Finché è bello bagnato e si possono far creare degli effetti bellissimi al colore, perché poi si mescola. Quando è bagnato il colore si mescola da solo, non c'è bisogno di far niente. Basta farlo colare e dargli indirizzarlo dove vogliamo. E basta. Cioè proprio dopo lavora l'acqua insieme al colore. Quindi, finché è bagnato, io sto scurendo, intensificando, spostando. Ok. Invece, le parti, le parti che non so se vedete qui, per esempio, che manca un po' di colore, anche qui, sono troppo vicine al... allo sfondo. Quindi, per evitare, finché è troppo bagnato, di far sì che poi si spanda tutto in fuori, venga fuori il pastrocchio, le lascio così. E le vado a ritoccare poi dopo, quando sarà asciutto, verso la fine, eccetera. Nel frattempo continuo a intensificare il colore. Nel frattempo continuo a continuare.